Allora, siamo appena tornati a casa, sto sbollendo un po' la situazione, questo è uno dei graffi che mi hanno fatto, belli anche belli, con un bel solco, alla mia macchina, alla stazione di Treviso. A mente fredda dico che ci sono cose peggio nella vita, per carità di Dio, questo si può rimediare come quando mi hanno spaccato il vetro. Però penso sinceramente in che società stiamo vivendo e che ragazzi adolescenti, perché sicuramente saranno adolescenti, non lo so, o gente molto frustrata, abbiamo nelle nostre città. Penso anche che queste famiglie hanno palesemente fallito, perché un genitore che tira su un figlio del genere ha solo fallito, quindi non sa fare il genitore. Non solo non sa fare il genitore, ma non vigila sul proprio figlio. Io ho sempre detto che adoro Mattia, perché io gli ho insegnato tanto come Michele, ma c'è tanto del suo. C'è un ragazzo umile, generoso, affettuoso e altruista. Io mi tengo i graffi e va bene così, però ho la fortuna di non avere dei figli vandali a casa. Perché penso sempre che l'educazione e il saper si comportare sia sempre migliore di tutto il resto. Quindi davanti a queste brutturie, perché non è tanto il fatto del graffio, ma proprio il gesto di voler fare un dispetto, Mattia pensa che sia perché c'è scritto in cucina con frollini, ma può darsi, non lo so. Io penso che queste sono persone che lo fanno di proposito.